...di cent'anni fa, è potente sulla terra e devoto a sua maestà. Sono di Londra i cittadini contegnosi ed educati, coi colletti e coi polsini, sempre bianchi e ben spierati. I più ricchi tra di loro per commercio e nobietà, ogni dì dopo il lavoro, si ritrovano in città, per riunirsi tutti insieme in un circolo privato dove, come si conviene, il giornale viene spiegato e discusso con gli amici, sia politica o sia arte, tra un bel piatto di pernici ed una partita a carte. Ed è proprio un londinese, qui l'eroe di questa storia, gentiluomo assai cortese che rifugia dalla gloria, con baffoni e favoriti, e coraggio da bulldog, elegante nei vestiti e chiamato Phineas Fogg. Un pignolo, in verità, che non sgarra di un secondo, come poi dimostrerà nel suo giro intorno al mondo, perché infatti egli ha scommesso una cifra inconsueta che in ottanta di soltanto farà il giro del pianeta. Ed il circolo di amici, che la sfida hanno accettato, sono contenti e sono felici per averlo bidonato. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti